Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il Premier Di Maio fa un passo avanti rispetto all'indicazione di Marcello Foa. Finché manca l'intesa non c'è presidente, avverte. Ma la Lega insiste, Foa è la scelta migliore. La Commissione di Vigilanza chiede con urgenza al CDA una nuova delibera per la nomina del Presidente e mette in guardia da fare nomine per TG e reti fino a che la questione vertici non sarà risolta. Grazie a tutti. Chiunque farà affari con Teheran non farà affari con gli Stati Uniti, avverte Trump. Ma Bruxelles non cede. La responsabile della politica estera europea, Federica Mogherini, ha esortato a preservare sull'accordo sul nucleare e ha incoraggiato le imprese europee a lavorare con l'Iran. Nel calcio italiano, accanto alle stelle del mercato, il caos delle categorie minori, a cominciare dalla Serie B, che a causa della sfilza di ricorsi non ha neppure deciso una data per la pubblicazione dei calendari delle partite. Agli europei di Atletica di Berlino è il giorno di Filippo Tortu, in gara nei 100 metri per consacrarsi come il nuovo Mennea e stasera sulla 7, Danfield Road, l'amichevole di lusso Liverpool Torino. Buongiorno, benvenuti al telegiornale della 7. Dunque all'indomani del devastante incidente stradale sull'A14 Bologna, Borgo Panigale, è arrivato il momento delle indagini. La Procura ha aperto un'inchiesta, il bilancio è di un morto, 145 feriti. Ci colleghiamo subito in diretta con Gui Chiappaventi. Buongiorno Gui, quali sono le ultime notizie? Le ultime notizie. L'inchiesta, buongiorno da Bologna, l'inchiesta intanto si procede per disastro colposo, omicidio colposo, lesioni colpose plurime stradali. I feriti sono 145,4 in gravi condizioni, non in pericolo di vita. Fra questi ci sono 11 carabinieri di una stazione, di una caserma di carabinieri qui vicini che erano intervenuti per fermare il traffico e tre poliziotti. Un poliziotto è stato colpito tra l'altro da un'ondata, appunto dalla fiammata di calore e austioni di primo, secondo e terzo grado, ma non è in pericolo di vita. È stata identificata la vittima, è l'autista della cisterna, si chiama Andrea Anzolin, aveva 42 anni, è vicentino. Non si capisce ancora quello che è successo qui sopra questo raccordo, intanto si lavora il raccordo autostradale Casalecchio di Reno, è stato riaperto in entrambe le direzioni con uno scambio di carreggiata, riaperto anche nella direzione verso Milano, è stato piuttosto facile arrivare qui da Milano. La strada non è chiusa, invece è chiusa nel tratto verso l'A14, quindi verso Ancona, verso Rimini, verso il mare e questo potrebbe dare problemi in seguito nei prossimi giorni ancora di esodo per il Ferragosto. Non si capisce quello che è successo, perché le immagini sono chiare, quelle delle telecamere fisse diffuse dalla polizia stradale, l'autista dell'autocisterna non ha frenato, c'era una coda qui su questo raccordo autostradale, è andato dritto senza frenare, forse un malore, forse una distrazione, forse un colpo di sonno. Non è chiaro quello che è successo, il Premier Giuseppe Conte ha sorvolato la zona in elicottero, poi è andato in ospedale a trovare i feriti, sentiamo quello che ha detto. Rispetto alla dinamica che si è prospettata, che si è realizzata, a quelle che potrebbero essere le conseguenze, possiamo ritenerci fortunati per le conseguenze che sono verificate. È stato un terribile, una tragedia senz'altro, però visto che i feriti nel complesso sono tutti in via di guarigione, la situazione quindi è sotto controllo. Noi dal punto di vista della responsabilità di governo dobbiamo capire quel che è successo per prevenire anche per gente in genere. Siamo stati fortunati, lo dicono intanto, qui la zona sembra quella di una guerra, perché ci sono finestre di velte, vetri spaccati ovunque, macchine bruciate, ci sono due autoconcessionarie, sotto qui i piloni dell'autostrada. Il ministro dei trasporti Toninelli ha detto vogliamo tutta la verità, riferirà tra poco, tra poco più di un'ora alle 15 in Parlamento sull'incidente. Ripeto, non ci sono indagati al momento una sola vittima accertata, era l'autista dell'autocisterna Veneto, Andrea Anzolin. Da Bologna vi restituisco la linea. Grazie Gui, buon lavoro. Allora, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lo avete appena visto, si è trasferito da Bologna a Foggia, in Prefettura, dove anche qui i magistrati stanno cercando di far luce su un fenomeno che è ben noto, ma che è diventato ancora più lampante in questi giorni. Stiamo parlando del caporalato, infatti in due diversi incidenti, nelle ultime ore sono morti 16 braccianti agricoli, 16 immigrati, 16 africani. Una situazione appunto nota, ma gravissima, su cui si sta indagando. Andiamo lì. Due inchieste, due distinti fascicoli aperti sulla tragedia, sulla Statale 16, la procura di Foggia indaga sulla morte dei 12 migranti rimasti uccisi nell'incidente stradale nelle campagne attorno a Lesina, uno schianto tra un pulmino che nel primo pomeriggio di ieri trasportava 14 persone al termine di una giornata di lavoro nei campi. È un camion, oltre ad accertare le cause dell'impatto dovuto forse ad un colpo di sonno del conducente del pulmino che è invaso, la corruzione opposta. L'altra inchiesta riguarda come e perché quei migranti fossero su quel furgone. Indagini anche per capire se loro stessi hanno pagato il trasporto a un caporale per finire l'uno sull'altro, ammassati in un veicolo che probabilmente non poteva contenerne nemmeno la metà. Se fossero assunti o facessero parte delle migliaia di migranti sfruttati per raccogliere frutte, ortaggi per pochi euro e senza alcun contratto. Solo sette corpi sono stati riconosciuti dopo operazioni andate avanti tutta la notte. Per capire chi siano gli altri cinque bisognerà attendere ancora ore, forse giorni. I braccianti con ogni probabilità tornavano dai campi del Molise, reclutati in base ai primi accertamenti. 2017 imprese agricole, una a Campomarine in provincia di Campobasso e sei nel Foggiano e confini col Molise. Stando alle prime indagini le vittime non abitavano nella struttura Casa Sancara a San Severo, ma nella baraccopoli costituitasi dopo lo sgombero del cosiddetto granghetto. Credo che ci sia bisogno di interventi straordinari per risolvere una situazione divenuta tragica e insostenibile, ha detto il capo della procura di Foggia, Ludovico Vaccaro, che ha aggiunto questa povera gente ha avuto problemi anche per trovare posto in ospedale, uno scempio. Tra poco più di un'ora qui in prefettura si svolgerà, comincerà il vertice per la sicurezza e l'ordine pubblico che verrà presieduto dal ministro degli interni e vice premier Matteo Salvini. Intorno alle 12.30 è arrivato anche il premier Conte. Conte, i temi ovviamente saranno quelli della sicurezza, del lavoro per i migranti dopo i due incidenti in 48 ore che hanno coinvolto proprio braccianti che lavorano nei campi qui attorno a Foggia, sono morte 16 persone. Proprio per questo a questo incontro hanno chiesto di partecipare i sindacati che per domani hanno già indetto una giornata di sciopero generale dei braccianti che lavorano appunto qui nelle campagne del Foggiano e in più ci sarà una manifestazione, un lungo corteo che partirà domani mattina da Sansevero e terminerà proprio qui nel centro di Foggia. Si indaga con le stesse modalità anche per l'altro incidente, quello avvenuto sabato sulla provinciale Trascoli, Satriano e Castelluccio, sempre nelle campagne attorno a Foggia quattro morti, il drammatico bilancio dopo lo scontro tra un pulmino e un camion che trasportava pomodori. Ecco, il Presidente del Consiglio Conte proprio in questo momento sta facendo delle dichiarazioni, ha detto dietro queste morti non c'è dignità, c'è un lavoro sfruttato, non c'era dignità, dobbiamo fare in modo che questo non accada. Mentre invece il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina, sempre da Foggia, ha detto che negli ultimi tre anni abbiamo fatto passi importanti, la legge di contrasto al caporalato ha permesso un aumento di controlli molto significativo, ma questo non basta, bisogna aumentare queste attività preventive, dice Martina. Ora cambiamo argomento, passiamo al nomine nella televisione pubblica di Stato, la RAI, c'è uno stallo perché la persona indicata dal Governo, così come è previsto, non ha avuto quei consensi necessari nella Commissione di Vigilanza, Commissione parlamentare che oggi torna a farsi sentire. Procedere al più presto con l'indicazione del Presidente della RAI e astenersi dal compiere atti al di fuori dell'ordinaria amministrazione come le nomine. A Tony Perentori la lettera che il Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, Alberto Barachini, ha inviato al CDA della TV pubblica. I pareri legali raccolti dalla Commissione bicamerale, l'ufficio di Presidenza si è riunito questa mattina, non lasciano dubbi sulle mosse che il Consiglio di Amministrazione dovrà fare per superare l'impasto sul nome di Marcello Foa, bocciato dalla stessa vigilanza. E dovrà farlo anche in fretta, domani, come chiedono le opposizioni in Commissione, che accusano la maggioranza di non rispettare la legge. Per indicare il nuovo nome però c'è bisogno che 5 Stelle e Lega si mettano d'accordo. Luigi Di Maio prende tempo, il CDA è pienamente operativo, bisogna eleggere il Presidente della RAI. La legge dice che serve un'intesa tra i gruppi e fino a quando non c'è questa intesa non c'è un Presidente, sottolinea il Vice Premier Pentastellato, che negli ultimi giorni sembra aver preso le distanze da Foa in un primo tempo sostenuto con determinazione. L'indicazione del nome, che dovrà sostituirlo, spetta comunque alla Lega, che però continua ad insistere sul giornalista. La strategia non cambia, fa sapere Matteo Salvini, si va avanti con l'attuale CDA e con Foa, che essendo il consigliere più anziano assume i poteri di Presidente. Il leader del Carroccio spera ancora in un ripensamento di Silvio Berlusconi, che in vigilanza ha fatto bocciare Foa dai suoi, e per ora non cambia idea anche se vorrebbe procedere, a passo spedito, con le nomine per le direzioni di reti e TG. Nomine che, se venissero fatte dall'attuale CDA, rischierebbero una valanga di ricorsi. Ieri, i capigruppo del PD alla Camera, Graziano Del Rio, e quello al Senato, Andrea Marcucci, hanno avuto un incontro con i Presidenti Fico e Casellati per chiedere il rispetto della volontà del Parlamento. Domani, invece, il Premier Conte ha convocato un vertice a Palazzo Chigi, fra i vari dossier sul tavolo. Ci sarà anche quello sulla RAI. Difficile, però, che la situazione si sblocchi a breve, nel caso dovesse accadere. La Commissione di Vigilanza RAI ha già fatto sapere che è pronta a riunirsi anche a ferroagosto per approvare la nomina del nuovo Presidente. E sono le ultime battute in Senato sul decreto dignità. L'Aula di Palazzo Madama ha concluso questa mattina l'esame degli emendamenti. Tra poco, invece, cominceranno le dichiarazioni di voto. Il via libera definitivo arriverà nel pomeriggio, dopo l'informativa urgente del Governo, sull'incidente di Bologna. Come volevano i Cinque Stelle, lo ha ripetuto questa mattina il Vice Premier Di Maio, non ci sarà bisogno di ricorrere al voto di fiducia. Il testo finale resta quello approvato la settimana scorsa dalla Camera, con le modifiche sui voucher. Continua la guerra dei Dazi, che così tanto caratterizza la politica economica del Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Questa notte sono scattati quelli contro l'Iran su dei beni simbolo. Ma tutto questo ha un po' anche il sapore di un avvertimento nei confronti degli alleati europei. 6.31 di stamattina, ora italiana, l'alba delle nuove sanzioni americane contro l'Iran. Un paese, secondo Donald Trump, minaccioso per tutti. Trump lo ripete da prima di uscire dall'accordo sul programma nucleare di Teheran, siglato più di tre anni fa da ONU ed Unione Europea su slancio degli Stati Uniti al tempo, guidati da Barack Obama. L'ipocrisia americana non ha davvero limiti, commenta in queste ore Mohammed Javad Zarif, ministro degli esseri iraniano e artefice primo del patto che ha rieperto dopo lunghi anni le porte del mondo al paese medio orientale. Trump, aggiunge Zarif, sostiene che tutto il mondo è preoccupato per il futuro del popolo iraniano e allora impone sanzioni che toccano quello stesso popolo. Tra le prime ha bloccato l'acquisto di aerei passeggeri che avrebbero garantito maggior sicurezza alla nostra gente in viaggio. La tattica del presidente americano si conosce oramai almeno in politica estera. Mostra i muscoli, sferra colpi ma apre ad eventuali trattative. Così è stato con la Cina, con l'Unione Europea. Alla vigilia del Varo della prima tranche di sanzioni scattata poche ore fa, Trump ha infatti ribadito l'intenzione di aprire un dialogo con i vertici iraniani. Ma negoziati e sanzioni, come dice il presidente iraniano Rouhani, non vanno d'accordo. Quella inscenata da Trump è una guerra psicologica. Guerra, quella delle sanzioni che il 5 novembre prossimo vivrà la fase più importante, aggredendo gli interessi più alti del regime degli ayatollah come il settore petrolifero e quello bancario. Unanime la critica dell'Unione Europea, anche davanti alla minaccia americana di imporre sanzioni a quei paesi, anche amici, che dovessero continuare a fare affari con Teheran. Scenario più che probabile, come annunciato da tempo dalla responsabile estere di Bruxelles, Federica Mogherini, preservare quell'accordo e rispettare un patto internazionale e di sicurezza indietro non si torna. Intanto il real moneta iraniana in tre mesi è crollata del 50% e nel mirino americano ora ci sono gli scambi e le transazioni finanziarie, il commercio di oro e preziosi, alluminio e acciaio e le centinaia di cittadini e società iraniane inserite da prima del 2015 in una lista nera di soggetti indesiderati. Obama la cancellò, Trump è pronto a riaprirla. Trump è che polemizza anche con l'amministrazione democratica dello Stato della California in occasione dei devastanti incendi. Due fronti uniti che hanno creato il peggiore incendio della storia della California, Stato che ogni anno conta diverse vittime a causa del fuoco. L'incendio ribattezzato Mendocino Complex dalla regione che sta investendo alle caratteristiche di tutti quelli del sud ovest degli Stati Uniti. Una carenza cronica di pioggia, il terreno riarso, il Santa Ana, il vento del deserto che soffia per giorni ad oltre 100 km orari e trascina le fiamme a macchia di leopardo, rendendo praticamente impossibile capire quali abitazioni rischiano di venire attaccate o quale squadre dei vigili del fuoco possano trovarsi improvvisamente circondate. Fino a che il Santa Ana non calerà, non c'è modo di fare nulla, dicono da Calfair, l'agenzia di Stato deputata a combattere i focolai. Per ora non è prevista alcuna tregua, così la maggior parte delle forze sono impegnate nell'evacuare le zone a rischio e nel contenere le fiamme che si avvicinano troppo ai centri abitati. A peggiorare le cose l'ormai immancabile polemica creata d'arte da Donald Trump che approfitta della tragedia in corso per spiegare all'America che il problema è tutto nelle leggi fortemente ambientaliste della California, Stato notoriamente democratico. Gli incendi boschivi della California sono stati amplificati e aggravati dalle pessime leggi ambientali che non consentono di utilizzare in modo adeguato l'enorme quantità di acqua prontamente disponibile. L'acqua per combattere le fiamme è stata scioccamente deviata nell'oceano Pacifica, ha twittato il Presidente. Un concetto che i vigili del fuoco locale non hanno affatto apprezzato. L'acqua va verso l'oceano, comunque hanno risposto i responsabili di Calfair, casomai viene deviata per altri scopi. Inoltre, qui non manca. Il problema è piuttosto la politica ambientale di questa amministrazione che non crede nel riscaldamento globale, che è uscita dalle accordi sul clima di Parigi ed ha cancellato tutte le leggi del Presidente Obama. L'evidenza spiegano le autorità californiane è che da anni ormai proprio il riscaldamento del pianeta crea ogni volta roghi sempre più intensi e sempre più difficili da combattere. E' drammatica anche la situazione nell'isola indonesiana di Lombok dove si è abbattuto nelle scorse ore un pesante sisma. Molti sono i feriti e altrettante le vittime. Turisti in fuga dall'Indonesia dopo il forte terremoto che domenica notte ha ucciso più di 100 persone, tutte indonesiane, e ferite altri 230, fra cui 7 stranieri, anche se altre fonti parlano di oltre 140 vittime. Dalle isole Ghili, di fronte alla parte nord-ovest dell'isola di Lombok, la zona più colpita dalla scossa, molto frequentate dagli appassionati di immersioni, sono stati evacuati circa 7.000 turisti, fra i quali decini di italiani. Nessuno dei nostri connazionali è rimasto ferito. Molti hanno trascorso la notte nei corridoi dell'aeroporto di Lombok in attesa di tornare a casa. Sono stati riforniti di cibo, acqua e coperte, mentre la società che gestisce l'aeroporto ha assicurato che i voli saranno aumentati per consentire a tutti di ripartire al più presto. È forte, infatti, il timore che arrivi un'altra scossa o addirittura uno tsunami. Alcuni turisti hanno raccontato le difficoltà e la mancanza di informazioni da parte delle autorità locali. Molti hanno detto di essere stati abbandonati senza nessuna informazione per più di 24 ore dopo il terremoto. Le squadre di soccorso intanto continuano a cercare i sopravvissuti. 13.000 gli edifici distrutti, almeno 600.000 persone coinvolte, fino a 20.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case perché crollate o comunque rese inagibili. Molte delle abitazioni danneggiate erano state già indebolite dalla scossa di magnitudo 6.4 di una settimana fa. Intere aree sono rimaste senza elettricità e decine di villaggi sono ancora irraggiungibili. Le autorità di Jakarta hanno inviato rinforzi militari e aiuti e gli ospedali continuano a operare in condizioni di emergenza. C'è bisogno di personale, paramedici e medicinali. Nelle ultime ore un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di una moschea crollata nel nord di Lombok e secondo un altro sopravvissuto potrebbero essere ancora molte le persone vive lì sotto. Al momento della scossa, ha raccontato, c'erano un centinaio di fedeli riuniti in preghiera. Il portavoce dell'Agenzia per i disastri naturali ha detto di sperare che molti possano ancora essere estratti vivi da sotto le macerie della moschea. Siamo arrivati allo sport. Settima medaglia azzurra agli europei di nuoto sincronizzato in corso adesso a Glasgow. Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno vinto il bronzo del duo libero aprendo una giornata nella quale l'Italia andrà all'assalto del podio continentale anche nell'atletica leggera con l'attesa prova di Filippo Tortu nei 100 metri a Berlino. Vediamo. A Berlino, sulla stessa pista che ha contribuito a creare le leggende di Jesse Owens e Usain Bolt Filippo Tortu punta a salire sul trono d'Europa dei 100 metri. È il giorno più importante della mia vita ha detto il baby finanziere Sardo Brianzolo entrato lo scorso 22 giugno nella storia dello sport azzurro per aver abbattuto il muro dei 10 secondi cancellando il record di Pietro Mennea a Città del Messico nel 1979. 12 mesi prima lo stesso sprinter pugliese aveva conquistato l'oro continentale a Praga l'ultimo per i nostri colori nella distanza regina dell'atletica leggera. 40 anni dopo le speranze italiane poggiano su questo ragazzo del 98 che si prepara alle gare leggendo Francesco Cossiga e ascoltando Patti Bravo. Il suo pensiero stupendo è di regalarci un'altra serata di gloria proprio nello stadio che vide Lippi e la sua nazionale battere la Francia nella finale mondiale del 2006. Due mesi fa il ventenne delle fiamme gialle allenato dal padre Salvino ha aggredito la corsia percorrendo il rettilineo in meno di 44 passi con una falcata che nel lanciato ha superato i due metri e mezzo. Stasera basterebbe aggiungere un solo centimetro a ciascun passo per guadagnare quasi mezzo metro rispetto alla super prestazione spagnola. Mi sento al massimo a garantito Tortu che in poco più di due ore cercherà di rendere storica una stagione fin qui già comunque straordinaria. Gli avversari più pericolosi sono il britannico Hughes figlio di giamaicani guidato dallo stesso coach di Bolt e il francese Vico entrambi accreditati di 9,91. Ai blocchi di partenza delle semifinali altri due italiani Federico Cattaneo e Marcel Jacobs in un passaggio di consegne con Glasgow dove Simona Quadarella e Federica Pellegrini torneranno in acqua agli europei di nuoto. Dopo l'oro negli 800 la romana tenterà il bis nella sua distanza preferita i 1.500 mentre la Pellegrini guiderà la staffetta 4x200. E poi ci sono gli ultimi giorni del calcio mercato per le grandi squadre e i problemi delle categorie inferiori con il campionato di serie B e C nel caos a causa dei ricorsi e dei ripescaggi. E' una calda estate in tutti i sensi anche per il calcio mercato italiano che non smette di regalare sorprese e colpi di scena. L'Inter è vicinissima a Keita attaccante del Monaco e della nazionale senegalese. L'accordo con la società monegasca è quello del prestito con la formula di riscatto 30 milioni di euro per avere l'ex laziale. Oggi Modric ritornerà ad allenarsi con il Real Madrid. Domani l'incontro con Florentino Perez che potrebbe liberare il vice campione del mondo destinazione Milano Sponda Nerazzurra. In casa Milani è risato il grande giorno del ritorno di Paolo Maldini mentre Leonardo a sorpresa ha annunciato che a settembre pure Riccardo Cacca tornerà a Milano per integrare la dirigenza rossonera. Sul fronte Juventus pronto il rinnovo del contratto per Pjanic con lo stipendio che passerà da 4 milioni e mezzo a 6 milioni di euro l'anno. I bianconeri continuano le trattative per portare a Torino uno dei due tra Pogba e Milinkovic Savic ma nonostante i botti di mercato il calcio italiano rimane nel caos con i campionati di serie B e C che rischiano di non partire. La serie cadetta dopo la silza di ricorsi in atto non ha neppure deciso una data per la pubblicazione dei calendari delle partite mentre la serie C con le iscrizioni di Juventus Under 23 Imolese e Cavese ed in attesa di conoscere ricorsi per il pescaggio in B di Catania Novara e Siena non sa quando potrà iniziare il campionato. Questa bufera sarà rischia di travolgere pure la serie A visto che giovedì per il Parma c'è il processo di appello contro la penalizzazione di 5 punti per la vicenda degli sms di Calaio prima della partita la spezia Parma. Venerdì il Palermo sarà davanti al collegio di garanzia del Coni per la discusa finale playoff di B a Frosinone che intanto è già iscritto alla serie A. Solamente il 12 settembre riprenderà il processo al Chievo per la storia delle plusvalenze con buona pace del Crotone che sperava in un ripescaggio. La novità di quest'estate 2018 è che la VAR diventerà visibile sui maxischermi degli stadi. Gli spettatori potranno vedere le azioni dubbie dopo la visione e la decisione dell'arbitro esattamente come avvenute recinti mondiali di calcio in Russia. Questa sarà una facoltà e non un obbligo per le 20 squadre di Serie A che comunque hanno accolto con favore la notizia destinata a cambiare ulteriormente il calcio italiano. E questa sera sulla 7 la nostra rete torna il calcio internazionale alle 20 e 30 potrete seguire in diretta l'amichevole tra il Torino e il Liverpool ad Anfield Road Walter Mazzarri testerà la tenuta della sua squadra contro gli inglesi finalisti lo scorso anno della Champions League e reduci dal 5 a 0 rifilato al Napoli dopo il successo sempre inamichevole sui brasiliani della Ciapa Coenze il tecnico Granata testerà la formazione attesa poi domenica prossima dal debutto in Coppa Italia contro il Cosenza tra i 21 convocati c'è Nianga la sua prima presenza dopo il rientro dai mondiali assente invece gli Haic alle prese con un problema alla coscia sinistra niente Inghilterra anche per Obi e Acqua destinati alla cessione ora prima della pubblicità di un breve stacco un aggiornamento la polizia ha ordinato l'evacuazione di una parte dello scalo dell'aeroporto di Francoforte questo è avvenuto poco tempo fa in Germania lo ha reso noto la stessa polizia su Twitter senza specificare il motivo preciso gli agenti hanno interrotto le operazioni di imbarco del Terminal 1 dello scalo internazionale hanno evacuato una parte dell'aeroporto sembrerebbe forse che una persona ha tentato di sviare i controlli con questo aggiornamento ci fermiamo per qualche minuto ma torneremo in studio tra poco eccoci di nuovo in studio allora c'è stata ieri una frana grave in Val d'Aosta a Courmayerne la Val Ferré in particolare che ha travolto una autovettura la persona a bordo è deceduta si tratta di una persona di Milano Vincenzo Mattioli non si trovava il corpo di sua moglie che in quel momento appunto si trovava a bordo insieme a lui poco fa è arrivata la notizia che anche la donna è stata individuata purtroppo anche lei senza vita al di sotto del veicolo le vigili del fuoco sono a lavoro stanno cercando il recupero si tratta del soccorso alpino sul posto c'è anche la guardia di finanza tra l'altro questa mattina in tutta la valle si è proceduto all'evacuazione questo per aiutare i soccorsi infatti la frana è stata piuttosto importante sono scese giù tantissime macerie dalla montagna e poi perché effettivamente in alcune zone forse c'è ancora pericolo dunque con questa notizia l'ennesima brutta notizia di questo nostro telegiornale alle 14 in punto finisce il nostro telegiornale grazie per essere stati con noi anche oggi e a domani arrivederci